Per l'ARPAC, che ha esaminato campioni di acqua di mare, l'inquinamento di questi giorni nel Golfo di Napoli è dovuto ad ammassi di microalghe che si formano con le alte temperature. Ma i sindaci di Procida, Monte di Procida, Bacoli e Dischia chiedono ulteriori verifiche ed opere radicali, in particolare per la ristrutturazione del depuratore di Cuma. Qui la società in liquidazione Hydrogest Campania fa sapere che in un comunicato che nessun liquame non trattato finisce in mare. La Hydrogest Campania, con il commissario Massarotti, recita la nota e impegnata nella gestione degli impianti al fine di creare le migliori condizioni di balneabilità del litorale Flegreo e Domizio. Domani comunque tavolo tecnico alla regione con i sindaci ed il commissario alle bonifiche Antonio Amato. I Verdi chiedono subito l'utilizzo degli spazzamare. Per l'assessore regionale Romano spetta ai comuni il controllo delle fogne. Romano ricorda che 240 milioni di euro sono stati investiti per i cinque depuratori ex Hydrogest. Complessivamente per le strutture campane di depurazione sono previsti 800 milioni di investimento.